Ciao, questa mattina sono a Casale Monferrato di Passaggio, questa sera ci vedremo a Milano e stavo osservando questo raccoglitore di plastica qui a Casale. In pratica ho introdotto una bottiglia da mezzo litro di plastica e ho ottenuto un buono da 0,02 euro da poter spendere in alcuni supermercati e farmacie, anche librerie. Sì, è un'interessante iniziativa. Invece il riciclo, come sappiamo, è una buona cosa. Volevo fare un appello per questo sabato e questa domenica in tutta Milano, faremo una raccolta dell'usato, di abiti usati e di cose che possono essere riciclate, perché secondo noi il riciclo, il fatto di riutilizzare le cose che già abbiamo non è soltanto un atto di pietà, ma un atto soprattutto di responsabilità. Quindi è con questo pianeta che lo stiamo distruggendo. Non possiamo pensare di avere risorse infinite, quindi il massimo che possiamo fare è cercare di ridurre quello che consumiamo e riutilizzare finché è possibile e soprattutto non inquinare. Ciao, ci vediamo!